Ciao a tutti, mi chiamo Luca Bracali e nella vita faccio il fotografo, il documentarista e, se volete, anche un po' l'esploratore. Ho visitato ad oggi 138 paesi ed ho raggiunto il polo nord geografico sugli sci. Ho anche scritto 10 libri, di cui 3 dedicati al pianeta Terra. Da oggi sarò anche l'ambasciatore ufficiale di un progetto al quale tengo molto, salviamo il pianeta. Più che un progetto è una vera e propria missione. Da oggi vi porterò in giro nei luoghi più inesplorati del nostro pianeta per mostrarvi ciò che sta accadendo. Abbiamo ricevuto in eredità questo preziosissimo dono e salvaguardarlo è una nostra vera e propria missione, un compito preciso. Adesso non vi dico altro, non aggiungo altre parole se non che seguiteci. Stay tuned! Salviamo il pianeta!